Il giorno e la storia. Oggi è il 17 dicembre. 1538. Papa Paolo III invia la seconda scomunica a Enrico VIII. Scisma della chiesa d'Indilterra. 1903. Decolla il velivolo dei fratelli White. 1981. Le BR sequestrano il generale nato James Lee Dosier. Commenta il fatto del giorno Maurizio Molinari, direttore della stampa. Ho scelto di parlarvi dell'attacco terroristico all'aereo della Panam a Fiumicino nel 1973. Grazie a tutti.